Siamo lotati Gesù e Maria, amici e amiche carissimi e bentornati a una nuova puntata del ciclo di Catechesi, abbastanza articolato, ampio e impegnativo, dedicato al Catechismo Romano del Concilio di Trento, sapete questo è un ciclo di Catechesi un po' come tutti, però contenuto evidentemente dottrinale formativo, ovviamente anche come sempre di consueto nel mio stile di predicazione, sempre però caratterizzato da un taglio catechetico, però di tipo dottrinale sapete, per introdurre, tanto per ambientarci, potrei forse molti non la sanno, per addetti ai lavori, di differenza c'è tra Catechismo e Catechesi, questa è roba da esame di teologia pastorale. Il Catechismo è semplicemente una presentazione dottrinale nuda e pura, quindi devi apprendere delle nozioni, dell'informazione. Invece la Catechesi per certi aspetti è la stessa cosa, quindi viene evidentemente offerto un contenuto da assimilare, però c'è sempre lo scopo della conversione, la Catechesi serve a provocare la conversione, quindi non è semplicemente un ascolto, come dire, freddo, distante, mi procuro delle informazioni, me le tengo belle, buonanotte, no? No, ma è sempre una provocazione, quindi ad un ascolto che porti frutti di vita, quindi una crescita interiore, o la conversione dal male al bene, oppure la conversione dal bene al meglio, dal meglio al meglio ancora, dal meglio ancora all'ottimo, dall'ottimo all'eccellente, eccetera, no? Bene, detto questo, ci siamo fermati la volta scorsa, stiamo vedendo l'articolo fu crocifisso, morì e fu sepolto, e ci siamo fermati al paragrafo precedente, la sepoltura, scusatemi, cioè la morte di Gesù, e dobbiamo riprendere dal paragrafo 60, che si chiama appunto sepolto e che ha come intestazione la sepoltura di Cristo, conferma della sua risurrezione. Vado alla lettura. Confessando a parte che egli fu sepolto, non dobbiamo credere che sia questa parte dell'articolo, questa è un'altra parte dell'articolo con qualche speciale difficoltà, oltre quelle già analizzate a proposito della morte. Se crediamo che Gesù Cristo morì, non ci sarà difficile anche ritenere che fu sepolto. La parola è stata aggiunta per due ragioni. Primo, per evitare ogni dubbio intorno alla sua morte. Costituendo, la prova della sepoltura, il più evidente argomento della morte. In secondo luogo, perché riceva maggior luce e conferma il miracolo della risurrezione. Quella parola però non vuol dire solamente che il corpo di Gesù Cristo fu sepolto. Principalmente, con esse viene proposto di credere che Dio propriamente è stato sepolto. Con la stessa validità con cui, in base alla formula della fede cattolica, diciamo con verità che Dio è morto e che è nato da una vergine. Infatti, mai essendosi la divinità separata dal corpo, ed essendo stato questo chiuso nel sepolcro, è evidente che possiamo giustamente affermare che Dio è stato sepolto. Intorno al genere e al luogo della sepoltura, il parroco potrà limitarsi a riferire quanto narrano gli evangelisti. Ma due circostanze dovranno essere poste in luce. Primo, che nel sepolcro il corpo di Gesù Cristo non fu affatto soggetto a corruzione, conforme al vaticinio del profeta. Non permetterai, o Signore, che il tuo santo conosca corruzione. Secondo, e ciò riguarda tutte le parti dell'articolo, che la passione e la morte vanno strettamente attribuite a Gesù Cristo quale uomo, non già quale Dio. Solo l'anduromana, infatti, è suscettibile di parimenti e di morte. Ma noi riferiamo tutto ciò anche a Dio, solo perché possiamo affermarlo di una persona che era nel medesimo tempo perfetto Dio e perfetto uomo. Amici, qui, forse per i non sacerdoti, quindi per i non studenti di teologia, magari non è tanto chiaro. Cerco di spiegarlo nella maniera più chiara possibile, perché questo è un pezzo veramente, un capolavoro. Allora, la sepoltura è evidente che fu sepolto, doveva evitare dei dubbi, ogni dubbio sulla reale morte di Gesù. E Gesù è stato nel sepolcro per un tempo, peraltro, superiore a 24 ore. Sapete che anche oggi, da un punto di vista legale, non parlo con lo sa, perché c'erano tanti funerali, 24 ore è il termine legale minimo per poter procedere all'eseguia. Perché se non passano queste 24 ore, a quanto pare, non si può essere proprio certi, 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 che il carozzano è proprio morta, morta, morta. Ma passare quelle 24 ore è incontrovertibile, che la persona è morta. Ora, Gesù è stato nel sepolcro circa una quarantina di ore, da cui deriva la via pratica molto in oggi in quaresima, che ormai è alle porte delle quarant'ore. Quindi era morto, morto, morto. E la sepoltura ne è la di prova. Dice anche che, siccome la resurrezione è stato un miracolo, la sepoltura lo rafforza. Perché, non dimentichiamo mai, che la pietra l'hanno rotolata dal sepolcro, gli angeli non l'ha rotolata dal nostro Signore. Lui è uscito a pietra chiusa. Quindi, il fatto della risurrezione è già un miracolo, uscire a pietra chiusa un altro, che fa capire che quella non era una risurrezione come quella che Gesù operò durante la sua vita mortale di Lazzaro, della figlia del Sinagogo Gairo e del figlio della vedova di Naim. Ma era una risurrezione e glorificazione. Queste tre risurrezioni evangeliche sono risorti, nel senso che l'anima è stata richiamata nel corpo, ma con la stessa vita che avevano prima. Non è che passavano i muri, Lazzaro risuscitato, no. Gesù sì, perché è una risurrezione che non è una semplice rianimazione, ma è una glorificazione del corpo. Quindi Gesù assume, da quel momento in poi, le caratteristiche del corpo glorificato, cioè di quelli che avremo noi, alla risurrezione della carne. Grazie a lui. Oh, attenzione. Sembrerebbe che il Catechismo presenti una contraddizione, perché mentre insiste, dice, l'importanza di questo articolo è che noi dobbiamo affermare, che è un'affermazione sconvolgente, che Dio propriamente è stato sepolto, così come, diciamo con verità, che Dio è morto e che è nato da una vergine. Questo perché? Perché la natura divina non ha mai lasciato Gesù nella sua anima e nel suo corpo. L'abbiamo visto la volta scorsa. L'unione ipostatica è rimasta integra sia con l'anima che col corpo. Ma se il corpo di Gesù stava nel sepolcro, noi dobbiamo dire che Dio stava nel sepolcro. Attenzione. Dio non può morire. Dio non può essere seppellito, d'accordo? Evidentemente. Quindi si dice che è vero che si può propriamente dire che Dio è stato sepolto, ma quanto alla natura umana assunta, d'accordo? Perché altrimenti non sarebbe stato possibile. Quindi propriamente, anzi strettamente, dice il testo, la passione, la sepoltura e la morte vanno attribuite a Gesù quale uomo, non già quale Dio. Però, riferiamo tutto quanto questo anche a Dio, perché? Perché possiamo parlare di una persona che era vero Dio e vero uomo. quindi come la divinità è stata sepolta veramente nella morte di Gesù, così l'umanità ha partecipato sia durante la vita terrena, per esempio, attraverso il compimento dei miracoli, sia ancora di più dopo la glorificazione, alla virtù e alla potenza della natura divina a cui era unita. Paragrafo 61. Come va meditato il beneficio della passione? Quindi il parroco esporrà intorno alla passione e alla morte di Gesù Cristo quelle considerazioni che rendono possibile ai fedeli se non la comprensione, perlomeno la contemplazione di così sublime mistero. faccia considerare anzitutto chi sia colui che ha sofferto. Non c'è dato intenderne o spiegarne a parole la dignità. San Giovanni dice che è il verbo il quale è in Dio. L'Apostolo ne fa una descrizione magnifica. È colui che Dio costituì erede dell'universo per suo mezzo di origine ai secoli. è fulgore della gloria impronta della sostanza del Padre. Sorregge l'universo con la forza della sua parola e dopo averci purificato dai nostri peccati siede alla destra della maestà suprema nel più alto dei cieli. In una parola chi soffre a Gesù Cristo Dio uomo soffre il creatore per quelli stessi che egli chiamò l'esistenza. Soffre il padrone per gli schiavi. Soffre colui per virtù del quale furono suscitati dal nulla gli angeli gli uomini i cieli gli elementi tutti colui insomma nel quale per il quale e dal quale sono tutte le cose. Nessuna meraviglia quindi se nell'istante in cui gli spasimi della passione lo stringevano tutto l'edificio del creato fu scosso nelle sue basi. si narra infatti nel Vangelo la terra tremò e le pietre si spezzarono le tenebre si diffusero su tutta la terra e il sole si oscurò se le creature inanimate e insensibili piansero la passione del creatore pensino i fedeli con quali lacrime essi pietre vive dell'edificio santo di Dio debbano esprimere il loro cordoglio. Bello eh? Quindi questa è una cosa fondamentalissima cioè l'invito rivolto al parroco che stimoli e questo adesso lo faccio i fedeli a rendersi conto di chi è che sta giacendo nel sepolcro anche se possiamo rendercene conto non proprio non c'è dato intenderlo spiegarne parole la dignità quindi ci possiamo rendere conto ma non ci potremmo mai rendere conto certo la considerazione stimola eccita la nostra intelligenza a avvicinarci un po' alla veramente non ci sono parole incredibilità ma non si dovrebbe dire così no perché questo è un mistero da credere però è talmente sproporzionale è talmente immenso che sembra incredibile cioè il creatore soffre per quelli che lui ha creato dal nulla il padrone soffre per gli schiavi colui in virtù del quale furono suscitati dal nulla dal nulla tutti gli angeli gli uomini i cieli gli elementi tutti colui dinanzi al quale tutto trema che gli basta una parola per fare qualunque cosa che voglia cioè queste sono cose che non cioè ci potremmo passare la vita intera a meditarle ogni giorno ma tanto non non basterebbe quindi l'articolo uno dicendo guarda che la terra ha tremato le pietre si sono spezzate le tenebre si sono diffuse sulla terra il sole si è oscurato vogliamo farci superare forse dalle creature non intelligenti e che cosa dovremmo fare noi pensando e considerando attentamente queste cose che dovremmo fare con quali lacrime debbano esprimere il loro cordoglio e qui domanda facciamo il passaggio catechetico chi sta ascoltando si chieda hai mai pianto sui dolori sulla sepoltura sulla morte di Gesù ma pianto pianto piange piange col core c'è un pianto accorato un pianto dirotto dirotto un pianto tipo fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi abbiamo mai fatto se non abbiamo mai fatto vi dovremmo chiediamolo perché queste lacrime si possono chiedere in dono questo non è il dono mistico proibito voglio vedere la madonna voglio vedere Gesù queste cose non dobbiamo né chiederle né desiderarle ma questo si signore vorrei piangere con cuore addolorato i tuoi dolori la tua morte la sepoltura ma certo che si tanto lo possiamo chiedere e speriamo che il signore ce lo conceda e non una volta sola ma innumerevo di volte sarebbe meraviglioso se ogni volta che assistessimo alla santa missa perché tanto questo avviene durante la santa missa in molazione annunciamo un'automorto il signore nell'attesa dell'ardora venuta sarebbe meraviglioso e in ogni santa missa per l'ardore della carità noi versassimo lacrime di cordoglio profonde dice ma queste sono cose sentimentali no no queste non sono cose sentimentali no queste no queste no certo sarebbero le cose un po' tendenti al sentimentale se faccio il pianto sul sui dolori di Gesù poi esco dalla chiesa e mancino la sigaretta questo non andrebbe bene certamente però se hanno pianto gli enti creati che dovremmo fare noi poi poi altro paragrafo i peccati degli uomini causa della passione altro punto dal punto di vista catechetico fondamentale dall'impatto veramente dirompente numero 62 i peccati degli uomini causa della passione si devono anche esporre le cause della passione onde meglio traspaiano l'intensità e la profondità dell'amore di Dio verso di noi chi indaghi la ragione per la quale il figlio di Dio affrontò la più acerba delle passioni troverà che oltre la colpa ereditaria dei progenitori essa deve riscontrarsi principalmente nei peccati commessi dagli uomini dall'origine del mondo sino ad oggi e negli altri che saranno commessi sino alla fine del mondo soffrendo e morendo il figlio di Dio nostro salvatore mirò appunto a redimere e annullare le colpe di tutte le età dando al padre soddisfazione cumulativa e copiosa per meglio valutarne l'importanza si rifletta che non solamente Gesù Cristo soffriva di peccatori ma che in realtà i peccatori furono cagione e ministri di tutte le pene subite scrivendo agli ebrei l'apostolo ci ammonisce precisamente pensate a colui che tollerò tanta ostilità dai peccatori e l'animo vostro non si abbatterà nello scoraggiamento allora due aspetti amici cari cioè uno al padre Gesù ha reso una soddisfazione cumulativa e copiosa non so chi di voi lo sa ma lo ricordo il termine soddisfazione era oggetto di assoluta ripugnanza non lo sopportava in nessun modo un certo Martin Lutero proprio nella sua etimologia latina satisfacere cioè fare abbastanza ah invece la chiesa l'ha sempre usato la chiesa l'ha sempre usato questo termine sempre adesso è caduto un po' in disuso diciamo così in questi tempi assurdi che stiamo vivendo mi piace chiamarli così i tempi in cui c'è un obnubilamento ecco della delle menti purtroppo non solo soddisfazione cumulativa e copiosa quindi cumulativa vuol dire che ha accumulato una soddisfazione sufficiente a tutti i peccati di tutti gli uomini di tutti i tempi per ciascuno in particolare copiosa significa abbondante oh e chi è stata la causa delle sue colpe noi siamo tu sei stato io sono stato e qui c'è un altro motivo di farsi qualche altro piantarello cioè non soltanto addolorarsi perché Gesù ha sofferto è morto ed è stato sevolto ma aggiungere a causa di chi perché a causa di Dama e Deva erano soltanto loro i cattivoni certo loro ci hanno messo un bel carico grosso la parte principale però ce l'hai messo anche tu e ce l'ho messo anche io e un pianto di questo genere dice signore mio magari non ce l'avessi messo pure il mio oppure tu perdonami tanto quanto mi dispiace questo pianto che dobbiamo farcelo questo qui ma magari capiamo la beatitudine mangiare i capeati gli afflitti no queste sono due delle diverse specie di lacrime sante piangere sulla morte di Gesù e piangere sui nostri peccati che ne sono stata la causa cioè è una cosa buona la mattina svegliarsi e ricordare questa cosa no perché c'è una pia pratica la pia pratica di baciare la terra appena uno si alza la mattina in segno baciare la terra è segno di umiltà e quando si va in chiesa è anche espressione della del gesto del bacio ai piedi di di Gesù che è un gesto di somma adorazione ma anche di somma umiliazione noi ci dobbiamo di umiliarci davanti a Gesù eh sarò la terra e dire guarda che purtroppo Gesù mio comincia un nuovo giorno io sono sempre il solito nulla sono sempre il solito peccatore e purtroppo mi rendo perfettamente conto che chi ti ha ucciso sono stato io per cui questo non deve mai allontanarci questo pensiero eh se lasciassimo le cose secondo giustizia io dovrei essere perduto e ringraziamo il Dio cioè la giusta come dire considerazione della misericordia non ci può essere se non si passa per questo passaggio obbligato cioè per quello che io mi sono meritato sarei perduto ma Dio ricco in misericordia per il grande amore con il quale ci ha amato da morti perché erano per i peccati scrive San Paolo ci ha fatto risorgere con Cristo e la conclusione è anche pensate a quello che scrive la vostra agli ebrei pensate a colui che tollerò tanta ostilità dei peccatori e l'animo vostro non si abbatterà nello scoraggiamento vado avanti più strettamente sono avvinti da questa colpa coloro che più frequentemente cadono in peccato i recidivi i peccatori abituati o abituali perché se i nostri peccati trassero Gesù Cristo nostro Signore al supplizio della croce coloro che si tuffano più ignominiosamente nell'iniquità di nuovo per quanto è da loro crocifiggono crocifiggono in sé il figlio di Dio lo disprezzano delitto ben più grave in noi che negli ebrei vedete la chiesa è stata antisemita il perfido giudeo togliamo questa roba in questo tempo il perfido giudeo era assolutamente come dire considerato come espressione normale però vedete anche le le analisi faziose e tendenziose da parte dei nemici della chiesa qui noi non dobbiamo mica adeguarci guarda che è peggio il delitto di un peccatore ostinato e recidivo che quello che hanno fatto gli ebrei più grave il delitto ben più grave in noi che negli ebrei chiaro di così diceva ma io non ho fatto niente io non c'ero non l'ho mica ucciso Gesù sì sì come non l'ho ucciso certo che l'ho ucciso certo che l'ho ucciso questi secondo la testimonianza dell'apostolo continuano la lettura cioè gli ebrei se avessero conosciuto il re della gloria ma non l'avrebbero già mai crocifisso mentre noi così scrive nella prima lettera di colinzi capitolo 2 se l'avessero conosciuto non avrebbero già mai crocifisso il signore della gloria lascia perdere poi che la non conoscenza era colpevole quindi non scusare l'ignoranza invincibile questo ci sta però comunque sia c'era una certa ignoranza noi no noi non possiamo dire che non sappiamo chi sia mentre noi pur facendo professione di conoscerlo lo rinneghiamo con i fatti e quasi sembriamo alzare le mani violente contro di lui cioè se questo noi non ce lo mettiamo bene in testa ma capite ma vi immaginate se una persona ci credesse veramente a questa cosa se la mettesse bene in testa ma con quale coraggio continuerebbe a peccare che vuoi fare violenza contro Gesù Cristo o esputargli in faccia vuoi prenderlo a bastonare vuoi dargli un pugno per spaccargli il naso o vuoi prendere quei fragelli cioè inumani cioè vuoi prendere quel fragello e scaricargli una frustata strappa carne sulla schiena lo faresti? no però l'hai fatto se hai commesso un peccato mortale per quanto riguarda la fragilazione specie impuro l'hai fatto tu hai preso il fragello il frago un traxillatum dei romani quello che si vede nella passione di Mel Gibson quello che ti si affondava nella carne e poi te la strappava via a brandelli e l'hai fatto un tempo la predicazione era tutta così i grandi predicatori specialmente francescani e domenicani che sono stati per centinaia di anni i più grandi predicatori distinti ma complementari un po' più eruditi i dominicani che chiaramente studiavano un po' meno eruditi ma comunque infiammati dall'ardore serafico che francescani ma quelli andavano a pedicare semplicemente dicendo guarda giovanotto tu sei un peccatore e i tuoi peccati hanno ucciso il figlio di Dio tu l'hai ucciso ah ma tu così mi fai una depressione ah ma questo che modo questo è terrorismo psicologico oggi si direbbe tutte le altre cose qui no? va bene la sacra scrittura attesta però che Gesù Cristo oltre che volontariamente fu preda della morte per volontà del padre lui l'ha accettata volontariamente perché altrimenti non sarebbe mai nessuno probabilmente l'ha mai addosso ma questa è la volontà del padre il padre voleva che lui andasse incontro a una morte di questo genere infatti prosegue il testo del catechismo dice ecco come si esprime Isaia l'ho colpito a causa dei delitti del mio popolo Isaia 53 8 il quarto canto del servo del signore io l'ho colpito a causa dei delitti del mio popolo e poco prima il medesimo profeta saturo dello spirito di Dio contemplando il signore coperto di piaghe aveva gridato ci siamo tutti sperduti come pecore ciascuno ha seguito la sua via e il signore ha fatto piombare su di lui le nostre iniquità piombare a me è successo tante volte figlioli miei cari cioè scene commoventi dove io stesso faccio fatica a trattenere le lacrime di vedere dei peccatori pentiti piangere le lacrime davanti a me dicono ma io padre io ho ammazzato il figlio di Dio sono io che gli ho dato addosso sono io che l'ho flagellato sono io che l'ho è vero e questo è stata cosa voluta dal padre per chi le conosce c'è quel memorabile passaggio delle ore della passione della serva di Dio Luisa Piccarreta è l'ora diciassettesima dove si legge dice ah la scena che noi ci rappresentiamo che tutti i tanti conosciamo la leggiamo nella domenica di passione oppure il venerdì santo c'è la condanna a morte di Gesù quindi il pirato prende Gesù lo mette fuori dal pretorio che facciamo crucifige crucifige quindi chi è stato sono stati i giudei dice quel testo dice insieme a quel crucifige io ho la voce del padre che dice figlio mio ti voglio morto è morto crucifisso addirittura la voce della madonna la voce della madonna cioè volere la sua morte assoluta perché la madonna sarebbe morta cento miliardi di volte prima più e al posto di Gesù soprattutto ma non l'ha fatto ha dovuto accettare quella cosa e dice anche quella che era scritta però se ad un certo punto mi sembra che anche io mi do capire ti voglio morto è morto crucifisso e si vuole fammi morire con te perché se non lo vogliamo morto crucifisso siamo 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 spacciati capite cioè il dramma noi dobbiamo capire bene il dramma del peccato la condizione umana il cristianesimo non annuncia acqua calda figlioli miei cari noi saremmo spacciati capite che significa la dannazione non c'è scampo non c'è possibilità non ci sarebbe capite l'abbiamo già visto nella puntata precedente non ci sarebbe siamo morti per cui noi dobbiamo desiderare che Gesù morisse perché se non muore lui io sono morto non c'è altra possibilità certo c'erano anche i nemici i demoni i nemici di Gesù che lo volevano morto per la sede del sangue per odio non si deve volere la morte di Gesù in questo modo chiaramente perché sarebbe un peccato orribile ma con le lacrime agli occhi come dire con un dolore sordo atroce nel cuore si deve dire signore mio devo desiderare che tu muoia per me diciamo che discorso è questo che è morto duemila anni fa ma che significa questo qui noi stiamo scorrendo nel tempo ma in Dio e anche in quel momento tutta la storia era presente quindi io posso adesso dire signore mio ma magari non fosse successo niente che non fossimo stati peccatori e che ti fossi risparmiato tanto dolore però purtroppo siamo rimasti così quindi tu guarda che mi tocca chiederti ma te lo devo chiedere muori per me e fatti seppellire per me e peraltro con te fai morire anche la tua santissima madre con la morte mistica che se c'è una creatura proprio assolutamente immeritevole di soffrire poco zero assoluto ma nemmeno il più piccolo fastidio è Maria Santissima l'innocente per antonomasia l'agnellina innocentissima il ricettacolo di tutte quante le letture la gemma di purezza inviolata incontaminata l'unica inviolata e noi siamo colpevoli anche di tutto quello che ha patito lei lei non ce lo dirà mai la madonna è talmente buona che io credo che non ce lo direbbe mai forse o forse sì ma in un modo a modo suo cioè con tutta l'altra la sua punta la sua dolcezza però questo abbiamo fatto ci siamo tutti sperduti ciascuno di noi ha seguito la sua via e il Signore ha fatto piombare su di Lui le nostre invita parlando poi del figlio suo disse se darò la vita sua per il peccato scorgerà una lunga progenie sempre Isaia sempre Isaia 53 non tutti hanno beneficiato anzi purtroppo sono pochi quelli che hanno beneficiato della passione di Gesù ma almeno quei pochi fanno parte di una lunga progenie ci sono fiumi di martiri schiere di santi schiere di vergini già adesso fanno parte della Chiesa la sposa di Cristo ma il numero di diretti ancora non è completo dobbiamo aspettare la fine della storia ce ne saranno molti altri che non sono ancora amati auro che qualcuno sia tra quelli che ascoltano queste considerazioni perché noi dobbiamo aspirare alla santità si provarci si poi ritenerci santi per favore quindi mi raccomando non facciamo stupidaggini il medesimo concetto è espresso con parole ancora più energiche dall'apostolo il quale mira a mostrarci quante ragioni abbiamo qui vi vuole forte speranza nell'infinita misericordia di Dio colui e gli dice che non risparmia il proprio figlio ma lo diede per il bene di tutti noi ma come non ci donerà ogni cosa insieme con lui ancora numero 63 non è ancora finito asprezza della passione nel corpo e nell'anima anche queste sono cose che dobbiamo pensare adesso arriva la quaresima la quaresima culmina nel tempo di passione noi dobbiamo fare come Santa Agnese di Paglia non si allontani mai dalla mente il ricordo di queste cose perché non pensarci è colpa esecrabile di omissioni a questo punto il parroco mostrerà quanto crudele sia stata l'acerbità della passione se rievochiamo alla memoria la circostanza che il sudore del Signore alla previsione dei tormenti e degli spasmi che dopo poco doveva subire fu sudore di sangue che cadeva fino in terra facilmente scopriremo che nulla sarebbe stato possibile aggiungere di terribile ai suoi dolori il sudore sanguigno mostra l'amarezza ineffabile suscitata dal pensiero dei tormenti imminenti che cosa dunque diremo della loro diretta esperienza a noi ogni tanto ci dobbiamo pensare guardate che Gesù Cristo ha resistito ad una mattanza del genere così a lungo solo perché ha fatto funzionare la sua divinità per tenerlo in vita oserei dire quasi miracolosamente non è possibile che uno resista a una tale scarica di dolore io qui ricordo quando studiai un po' la saga da Sino ci feci tanti incontri negli anni passati la settimana santa ma il luogo dove venivano posti i chiodi nelle mani è pazzesco perché tra la radio e l'urna nel polso passa il nervo mediano che è collegato direttamente al cervello quindi non è soltanto cioè già se ne rendiamo conto passi trafiggere da un chiodo che ti passa da parte a parte poi non è uno sono tre e le membra sono quattro adesso poi parleremo un attimo dei piedi ma il nervo mediano ma è una cosa allucinante ti si spacca il cervello cioè è una cosa pazzesca penso che tutti sappiamo che i piedi sono la parte più sensibile che noi abbiamo basta farsi una leggera ferita un piede per vedere tutte le stelle quindi dice il sudore sanguigno ha sudato sangue perché perché se ne rappresentava tutti quanti questi tormenti non è mica stato cioè certo che lui l'ha fatto con amore ma ha sentito il peso di questa cosa aveva una ripugnanza estrema ad affrontare tutta quanta questa robaccia e a passare per la morte ma ha fatto per noi questi dolori sofferti da Gesù Cristo ne colpirono sia il corpo sia l'anima nessuna parte del suo corpo fu immune dalla sofferenza atroce i piedi e le mani trapassate dai chiodi il capo recinto di spine percorso a colpi di canne il volto insozzato di sputi malmenato con schiaffi tutto il corpo battuto con i flagelli uomini di ogni stirpe e di ogni classe si accordarono nell'infierire contro il Signore e il suo Cristo qui c'è una citazione del Salmo 2 pagani ed ebrei furono solitamente stigatori autori e strumenti della passione Giuda lo tradì Pietro lo rinnegò tutti lo abbandonarono pensiamo 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 e pensiamo che cosa poi rileveremo nella crocifissione il patimento la vergogna o non piuttosto l'uno e l'altra in realtà non sarebbe stato possibile scogitare genere di morte più obbrobrioso e doloroso di quello al quale di solito erano destinati i più scellerati e pericolosi fra gli uomini durante il quale la lentezza del supplizio rendeva più cosciente lo spasmo peggio di quello non c'era ma forse non c'è mai stato e non ci sarà mai la morte di croce con i chiodi è la cosa più dolorosa e più vergognosa e umiliante che possa esistere chiaro e questa è la passata per te ma voi capite cioè la gente che 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 campano in tutt'altra faccenda affacentare che non pensano a queste cose quale follia assoluta cioè il signore è tanto buono ma ci ci rendiamo conto come potrebbe essere il giudizio particolare di un disgraziato del genere ma brutto o disgraziato queste sono considerazioni mie sicuramente il signore sarà molto più buono ovviamente di me ma tu con tutto quello che ho fatto ma manco mezzo pensiero ma dico ma stai fuori di testa stai e mi raccomando facciamo in modo di non metterci carico da 11 perché se fino a oggi o fino a quando ci siamo convertiti magari abbiamo esagerato un po' adesso basta eh siamo stati alla saletta l'estate scorsa un posto un posto che consiglia a tutti un posto veramente straordinario e la Madonna e la Madonna come in tutte le apparizioni questa catenona questa catenona sono stati collaterali e come con atti di amore con atti di liberazione con un sacramento ben vissuto con una preghiera ben fatta con un'opera buona compiuta un'opera di virtù un peccato che abbiamo vinto che non abbiamo commesso che ne so patimento vergogna infine del resto la stessa costituzione fisica di Gesù dice il testo del catechismo rendeva più atroce la sofferenza l'abbiamo visto la volta scorsa il suo corpo infatti formato per virtù dello spirito santo qui si dicalca la dottrina di Tommasiana era dotato di maggiore sensibilità e delicatezza del corpo degli uomini normali quindi non solo un tormento del genere ma a lui come da lui avvertito molto di più cioè se me li mettessero a me i chiodi nelle mani e nei piedi io non soffrirai tanto quanto sofferto Gesù anche se rivivessi esattamente la stessa identica cosa perché non ho una costituzione perfetta del corpo come quello che aveva lui quindi in esso prosegue il testo erano più affinate le capacità sensibili fu perciò per esso più doloroso affrontare tanti tormenti d'altra parte nessuno potrà mettere in dubbio che anche il dolore dell'animo arrivò all'estremo in Gesù Cristo l'anima i santi che affrontarono supprizi e tormenti non mancarono di un certo conforto spirituale divinamente concesso sostenuti dal quale poterono con energia serena tollerare l'acquillo del martirio anzi accadde che molti pur fra indicibili spasimi sembravano soffusi di una vera delizia interiore l'apostolo per esempio sclamava godo nei mali che soffro per voi e coppio nel mio corpo quanto mancano le sofferenze di Gesù Cristo soffrendo io stesso per il corpo suo che era chiesa e altrove sono colmo di gioia sovrabbondo di delizia in ogni nostra tribolazione invece Gesù Cristo nostro Signore bebbe un calice di passione amarissima che nessuna stilla di suavità aveva temperato al contrario permise la natura umana la via assunta di sentire tutti i tormenti quasi fosse solamente uomo e non Dio o meglio come già spiegato durante la passione alla morte possiamo dire che era diciamo così quasi esclusivamente uomo perché la divinità non aveva altra funzione in quel momento che quella di mantenerlo in vita contro ogni legge di natura per fargli gustare fino in fondo gustare ovviamente tra virgolette il fine di bere fino in fondo il calice dell'ira di Dio dell'ira puriosa di Dio onnipotente si legge nella saga scrittura nel tino appiggiato io da solo con l'uomo tinto di rosso di cui parla il profeta Isaia e di tinto di rosso perché bagnato cioè il vestito rosso fatto col suo sangue numero 64 i frutti della passione infine il parroco spiegherà con dirigenza i vantaggi e benefici scaturiti per noi dalla passione del Signore anzitutto dalla passione del Signore esegui la nostra liberazione dal peccato dice San Giovanni egli ci ha amato e ci ha mandato dalle nostre colpe con il suo sangue e l'apostolo dal canto suo afferma ci ha fatto rivivere perdonandoci tutti i peccati cancellando la sentenza di pena emanata contro di noi che egli soppresse affiggendola alla croce in secondo lungo ci ha strappati dalla schiavitù del demonio lo stesso Signore ha detto infatti adesso si fa giudizio di questo mondo adesso il principio di questo mondo sarà cacciato fuori e io quando sono rinnazzato da terra tirerò tutti a me il giallo di Giovanni 12 31-32 in terzo luogo pagò il debito contratto per i nostri peccati non essendo possibile offrire a Dio sacrificio più accetto e gradito Gesù Cristo ci ha riconciliati con il Padre rendendolo verso di noi propizio e placato infine avendo scontato la pena del peccato ci dischiuse l'ingresso nei cieli che la colpa comune a tutto il genere umano aveva serrato il che fu espresso dall'apostolo con le parole nutriamo fiducia di essere ammessi nel santuario in virtù del sangue di Gesù Cristo non mancano nel Vecchio Testamento simoli raffiguranti di questo mistero coloro ai quali era vietato di diventare in patria prima della morte del Sommo Sacerdote si legge in numeri 35-25 stavano a significare che nessuno poteva entrare nella patria celeste per quanto giusta e più la sua vita prima che il Sommo dell'Everno Sacerdote di Gesù Cristo subisse la morte San Giuseppe non c'era in paradiso è morto prima dell'inizio della passione di Gesù questa è una tradizione come dire certa nella chiesa ma prima che Gesù morisse non è andato in paradiso nemmeno San Giuseppe c'è il più santo dei santi c'è il più santo di San Giuseppe tra gli esseri umani non c'è ma non era stata ancora compiuta la detenzione quindi bellissimo quell'episodio vedete che anche nelle cose dell'Antico Testamento se nessuno è proibito di entrare in patria prima della morte del Sommo Sacerdote è proprio così non si rientra in paradiso nella nostra patria prima della morte del Sommo Sacerdote che è il nostro Signore dopo questa immediatamente i battenti del paradiso si spalancarono per coloro che purificati attraverso i sacramenti ricchi di fede di speranza e di carità partecipano ai frutti della sua passione ultimi due numeri che leggiamo rapidamente e così finiamo nel quarto articolo la passione del Signore è sacrificio sommamente accetto il parroco mostrerà come tutti questi magnifici doni divini ci vennero dalla passione anzitutto perché si tratta di una soddisfazione integrale e perfetta sotto ogni punto di vista che Gesù Cristo offrì a Dio Padre per i nostri peccati in una maniera mirabile anche il prezzo d'ho ripagato invece nostra non solo pareggiò ma oltrepassò i nostri debiti il sacrificio fu sommamente accetto a Dio appena offerto dal figlio sull'altare della croce l'ira e l'indignazione del padre furono placati l'ira e l'indignazione del padre placati linguaggio oggi completamente indisuso ma linguaggio vero e reale tali concetti esprime l'apostolo quando dice Cristo ci amò e si offrì per noi quale vittima e oblazione di suo profumo a Dio a tale retenzione si riferiscono le parole del principe degli apostoli non siete stati ridenti con oro e argento corruttibili dalla fatuità delle vostre consuetudini paterne tradizionali ma con il sangue prezioso di Gesù Cristo agnello candido e senza manchi incontaminato e San Paolo insegna Cristo ci ha liberati dalla maledizione della legge diventando lui maledizione per noi infine la passione di Gesù è il modello di ogni virtù con questi immensi benefici un altro ne abbiamo raggiunto fissando lo sguardo nella sola passione noi scorgiamo esempi mirabili di tutte le virtù e se infatti insegna la pazienza l'umiltà l'esimia carità la mansuetudine l'obbedienza la più tenace costanza d'animo non solamente nel sostenere i più forti dolori per la giustizia ma anche nell'affrontare impavidamente la morte noi non abbiamo paura di soffrire per la giustizia anche i dolori fisici o di affrontare la morte cioè le sofferenze e la morte non ci possono non ci devono far paura si può dire quindi senza esagerare che il nostro salvatore nel solo giorno della passione riassunse in sé tutti i due precetti di vita che aveva inculcato durante il periodo della sua predicazione quanto abbiamo detto brevemente riguarda la salutifera passione di Gesù Cristo nostro Signore che dunque i misteri contemplati ecco qua siano assiduamente presenti alle nostre anime e che noi apprendiamo così a soffrire a morire e a essere sepolti con il Signore vedete che anche qui si fa catechesi non si fa soltanto catechismo per chiudere dove abbiamo cominciato quindi primo questi misteri siano assiduamente presenti nelle nostre anime e così noi apprendiamo a soffrire a morire ed essere sepolti con il Signore senza paura così eliminato ogni bruttura di peccato risorgendo con lui a vita nuova possiamo un giorno con la pietosa sua grazia essere fatti degni di partecipare al regno e alla gloria dei Cieli cari amici ecco edificati credo da questo da questa apologia sacrosanta della passione della morte della soffertura di Gesù ecco affidiamo al Signore quest'articolo il prossimo sarà discese agli inferi o all'inferno poi si vedrà in che senso il terzo giorno risuscita la morte quindi la discesa agli inferi e la risurrezione il sabato santo e la domenica di Pasqua che comincieremo analizzare la prossima volta Dio vi benedica la Santa Vergine sempre ipoteca e siano notati Gesù e Maria grazie a tutti grazie a tutti